Ciò che sta emergendo è uno scenario preoccupante di un affarismo occulto. Qualcuno non solo ha fatto affari, ma ha fatto affari in maniera furfantesca e questo non va bene perché si va a deturpare un settore estremamente delicato e prezioso, per lo più a servizio dei più deboli, dei meno avvantaggiati e dunque è un delitto doppio. Giudizio severo quello del candidato di area popolare Dino Boffo, l'ex direttore di Avvenire TV2000 scende in politica a sostegno della candidatura a presidente della regione di Flavio Tosi. In questo nuovo scenario che è appunto quello dell'amministrazione e della politica regionale, credendo che il Veneto sia il qui e ora della politica nazionale perché qui si decide la rimodellazione del centro-destra nel nostro paese e di conseguenza anche gli argini che dovrà avere in futuro il centro-sinistra. Veneto laboratorio politico. Quanto alle esigenze stringenti dei cittadini, nel progetto di Tosi vengono innanzitutto rilancio dell'occupazione e sicurezza. Il Veneto serve lavoro, lavoro per i giovani e lavoro un po' per tutti. Serve rilancio quindi delle attività produttive, sostegno all'agricoltura, all'artigianato, all'imprenditoria giovanile. Serve sicurezza. La gente deve sentirsi sicura nell'uscire di casa e ravvivare i propri paesi, ravvivare il centro delle nostre città. Queste mi sembrano le cose fondamentali. Queste mi sembrano le cose fondamentali. Good evening.